Intensificati i controlli della Guardia Costiera nel Cilento per garantire una balneazione sicura e arrivano già i primi risultati. Sono infatti 20 le sanzioni amministrative elevate dai militari dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro e dai suoi uffici locali minori dall'inizio della stagione estiva. Assenza delle previste boe di delimitazione degli specchi acquei riservati alla balneazione, assenza del bagnino dalla propria postazione, carenza delle dotazioni di salvataggio, mancata predisposizione di un idoneo locale di primo soccorso, sono state le gravi deficienze riscontrate a fronte delle quali sono state elevate le sanzioni amministrative che vanno dai 1.000 e 3.000 euro. Accertati anche abusi di natura demaniale. Circa 600 metri quadri di arenile sono stati infatti liberati e restituiti alla pubblica fruizione con i responsabili deferiti all'autorità giudiziaria per aver occupato aree di demanio marittimo superiori a quelle concesse e in assenza delle necessarie autorizzazioni. I controlli proseguiranno e interesseranno l'intera giurisdizione del circondario marittimo che include i comuni di Pisciotta, Centola, Camerota, San Giovanni Appiro, Santa Marina, Ispani, Vibonati e Sapri. Una particolare attenzione è rivolta alle imbarcazioni al fine di prevenire e reprimere comportamenti che possono mettere in pericolo la vita umana. Anche quest'anno alle unità che risulteranno in regola con la documentazione di bordo e le dotazioni di sicurezza necessarie per la navigazione sarà rilasciato il bollino blu che attesta l'avvenuto controllo ma non esenta da analoghi controlli di routine anche da parte di altre forze di polizia.